Mi chiamo Antonino, ho 29 anni, vengo dall'Italia, precisamente dalla Calabria. Ho trovato la clinica Air of Istanbul su Instagram, ho visto la pagina, mi è piaciuta molto, i risultati che ho visto erano ottimi, quindi ho deciso di scrivere al gruppo su WhatsApp del numero italiano. Da lì subito mi hanno risposto con cortesia, mi hanno dato tutte le indicazioni possibili e mi hanno convinto ad affrontare questa avventura. Organizzati con la mia ragazza siamo venuti qui a Istanbul, c'è stato un accompagnatore che ci ha preso dall'aeroporto e ci ha portato fino all'hotel. Successivamente il giorno dopo ci hanno portato in clinica, tutto organizzato da loro, i trasporti, l'hotel, tutto. Giunti alla clinica il dottore ha tracciato la linea guida, ci ha parlato dell'operazione in generale, sono stati molto efficienti, competenti. Dopo l'operazione ho visto il risultato, mi è piaciuto molto e spero ora successivamente di avere dei risultati ancora migliori.